La mia relazione verterà sull'integrazione per la donna durante la gravidanza e durante l'allattamento. Quello che dobbiamo ricordare è che sono due periodi fisiologici della vita di una donna e che quello che noi possiamo fare con la giusta integrazione è supportare la crescita del feto, supportare il corpo della donna che va incontro a cambiamenti e sfide molto importanti e anche tutta la parte dei cambiamenti neurologici che avvengono in lei. Dobbiamo anche pensare a supplementare in caso di carenze che possono avvenire e di tutelare il metabolismo della donna e quindi di tentare di prevenire la possibilità di sviluppare diabete gestazionale o forme di insulino resistenza legate al periodo della gravidanza. Per quello che riguarda l'allattamento di nuovo il corpo della donna è posto di fronte a una grossa sfida perché è un momento che richiede un sforzo energetico importantissimo al corpo e avviene anche immediatamente dopo il parto quindi con tutti i cambiamenti ormonali correlati a questo periodo. Quindi a parte l'integrazione con acido folico che va che è prevista prima ancora dell'inizio della gravidanza o comunque appena ci si rende conto di essere incinte che è tipicamente a carico del ginecologo e che serve per la prevenzione di difetti dello sviluppo neurologici del feto tra cui anche la famosa spina bifida. Si può pensare di continuare ad integrare con un complesso di vitamine B per tutta la gravidanza e anche durante l'allattamento hanno un ruolo anche gli omega 3 sia nella tutela della processi neurologici della donna ma anche abbiamo qualche dato sulla promozione di un sano sviluppo neurologico del feto e anche durante l'allattamento gli omega 3 supportano tutta la parte neurologica cognitiva ed emotiva della donna. Può essere necessaria un'integrazione di vitamina D per la salute di nuovo cerebrale e ossea della donna ma anche per quella neurologica e ossea del feto. Una delle carenze più comuni sia in che nell'allattamento è quella di ferro e quindi via si all'integrazione di ferro in forma possibilmente liposomiale che è quella che dà meno problemi a livello gastrico, intestinale e di assorbimento e a seconda chiaramente della donna che ci troviamo davanti va sempre pensata un'integrazione sartoriale e studiata appositamente per lei.